Il momento più solenne della perdonanza celestiniana entra nel vivo oggi con l'apertura della porta santa della Basilica di Collemaggio e anche l'inizio del giubileo più antico della storia preceduto dal corteo statico con 250 figuranti. A causa della probabile pioggia, comunque delle cattive condizioni meteorologiche, la Santa Messa si celebrerà all'interno della Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Ma per raccontarvi un po' il clima che già si respira all'Aquila ci colleghiamo con Daniela Rosone che ha accanto a lei un ospite. Buon pomeriggio Daniela. Buon pomeriggio, ben trovato Paolo e ben trovati a tutti i telespettatori di Reteotto. Sì, siamo proprio con alle spalle la porta santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, 727esima perdonanza celestiniana. Oggi, come giustamente dicevi tu, il momento più importante, la vera essenza della festa della perdonanza con il corteo storico, ma soprattutto con la Santa Messa e poi l'apertura della porta santa. La particolarità di quest'anno è questa aquilanità, questa apertura in chiave aquilana perché sarà il cardinale feroce. Credo per la prima volta un aquilano e un altro cardinale, due cardinali, apriranno e chiuderanno la porta santa, rispettivamente il cardinale feroce e poi il cardinale Giuseppe Petrocchi che la chiuderà. Quindi c'è anche questa particolarità perché il cardinale Enrico Feroce è di Pizzoli, quindi originario del nostro territorio. Il momento più importante, l'essenza, dicevamo, del messaggio di Papa Celestino V. Per commentare abbiamo il piacere di avere con noi Don Giulio Signora che, oltre ad essere il parroco della parrocchia della Torretta, è anche il direttore dell'ufficio di pastorale della nostra diocesi. Don Giulio, il messaggio di Papa Celestino, un messaggio di pace, di fratellanza, il perdono, un messaggio che è ancora attuale dopo tutto questo tempo. In un momento in cui nel mondo si parla di guerre, di difficoltà, anche il cardinale Petrocchi ha parlato di notte, riferendosi anche alla pandemia. Che significato oggi c'è per questo messaggio così antico, ma ancora moderno di Celestino? Sì, io credo che ci stiamo rendendo conto che il concetto di pace è un concetto forse anche un po' troppo minimale per noi cristiani. Mi spiego, cioè noi tendiamo la pace un po' semplicemente come l'assenza di guerre. Noi qui all'Aquila invece abbiamo la possibilità di conoscere un concetto di pace completamente rinnovato. Pace vuol dire costruire tutto in maniera nuova sulla base di un dono anzitutto ricevuto. Io credo che il messaggio fondamentale della perdonanza sia proprio questo. Anzitutto l'immagine di una porta che si spalanca, l'immagine cioè più vera, più sincera, di un dono che è quello del perdono del Signore nei confronti di chiunque, in maniera assoluta e in maniera incondizionata. La pace quindi può essere e deve poter essere la conseguenza di questo dono che raggiunge ciascuno, ciascuna persona indipendentemente dalle proprie condizioni, dalle proprie difficoltà, anche dalle proprie vicinanze e lontananze rispetto al Signore. È lui che viene incontro, è lui che spalanca questa porta. Pace quindi diventa la risposta ad una meraviglia, di un qualcosa di nuovo, che in realtà diventa anche costruzione di qualcosa di nuovo sulla base delle nostre relazioni. Paolo, non so se da studio avete qualche domanda per Don Giulio, qualche altra curiosità legata appunto a questa perdonanza, la seconda in chiave Covid, quindi con un corteo statico, meno figuranti, un po' di cambiamenti come giustamente dicevi anche tu in apertura del Tg per quanto riguarda il maltempo che purtroppo è atteso, quindi la Santa Messa si farà all'interno e non come l'anno scorso. Quindi a te la parola per altre riflessioni. Soltanto una domanda, Daniela, perdonanza, sappiamo che è anche patrimonio immateriale dell'UNESCO. Quanto conta, se conta questo aspetto? Certo, il riconoscimento come patrimonio immateriale UNESCO adesso è il fulcro che rende questa festa della perdonanza ancora più importante. Io direi che questo è il tema centrale, il corteo statico, il fuoco del morrone che è arrivato all'Aquila poi con l'accensione del tripode, i figuranti che sono i rappresentanti della comunità, cioè le due dame della bolla e della croce, poi il giovin signore, sono elementi che vanno salvaguardati. L'UNESCO ovviamente vuole che il Comune con il Comitato che si occupa di questi aspetti salvaguardi questi elementi, cioè si punti sempre più a valorizzare questi elementi che sono stati il perno del dossier UNESCO. Per cui ci saranno sicuramente novità, si sta lavorando a questo aspetto, il Covid ha soltanto rallentato, perché ovviamente il riconoscimento UNESCO si è ottenuto, ma anche con il Ministero va salvaguardato, per cui ci saranno tutta una serie di elementi, di sforzi da mettere in campo, a partire anche dalla divulgazione del messaggio di Papa Celestino, di quelli che sono i valori della perdonanza, soprattutto nelle scuole. Quindi parlando anche con Massimo Alesi, che è il delegato per conto del Comune, a gestire questi rapporti con l'UNESCO, si parlava proprio di questo, che ora verranno messi in campo tanti sforzi per salvaguardare quegli elementi che hanno portato la perdonanza ad ottenere il riconoscimento. Bene così, grazie a Daniela Rosone e anche a Don Giulio per questa finestra sulla perdonanza, perdonanza che tornerà in diretta su Rete8, su questa rete a partire dalle 17.30. seguirete la bolla del corteo, un corteo statico, alle 19 ci sarà la Santa Messa e poi l'apertura della Porta Santa.